ciao a tutti belli e brutti quanti nuovi c'era bellissimo partenza per argenio val di intervi scendiamo dal passo della valmara ritorniamo da mendresio e ritorniamo alla base ciao a tutti belli e brutti facci vedere come ti ha pelato bene dai dai tira via il caschetto dai non la sento c'è il sangue che ti cuore sulla mano mi ha mosso un vampiro allora da meno due siamo arrivati a una temperatura più gradevole più due siamo ad argenio oh spiegami la cosa come vai a sapere quanti gradi ci sono sento comunque dobbiamo fare la val di intervi ciao è pezz'ora che sta pisciando sicuramente che non lo trovo è pezz'ora che non lo trovo siamo arrivati a fare la val di intervi ma qualcuno ha bucato qualcuno ha bucato e a qualcuno dobbiamo parlare non abbiamo neanche fatto il tempo di girare il panino è poco che abbiamo un giottito abbiamo un camera nuovo dov'è il buco? dov'è? bisogna zoomare vediamo quanto tempo ci mette il meccanico perché non mi occorre di sporcarlo dopo se fai un buon tempo ti ingaggia la Ferrari a fare il cambio gomme non mi occorre e tu riesci a leggere che misura è questo qua? prova a vedere ce l'ho io la pompa siamo senza pompa ce l'ho io tira su la guardizione se non ci fosse io questi restano sempre finiti questo qua serve? usiamo? ce dici? no che non serve mettere la camera d'avio nuova oh si così si che si può un po' più 26 per 1,50 guarda qua va bene sulla bicicletta dei bambini ma noi usiamo quell'altra ma io sapevo ognuno che è possibile questa qua buccata cos'è che è? mi sa che qua facciamo notte 26 per 1,50 ora che trovo la camera d'aria 26 per 1,50 questa di quanto è che è? è la stessa Roberto la batteria è infinita com'è finita? è infinita la batteria no 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 gira la ruota gira la ruota gira la ruota gira la ruota siamo qua in 3 ha detto 2 e mezzo dai che sei sei anche te su youtube se no sentiamo solo la tua voce di solito e che non è un male avete visto che stavolta il cameraman è qui eh si sta proponendo come fotomodello pompa se no abbiamo caso a più stasera pompa capriolo siamo ancora qui a San Fedele a pompare la gomma ma se no ricopriamo ancora un po' la vita bene il tappino se no si sgonfia no quello no sotto lì no quello se no si sgonfia pompa oggi pompa domani non si stanca montaggio ruota ultima fase filma qua qua facciamo le comiche adesso che mette dentro la ruota che la fai? non so oh la bus lo dico no è arrivato il maestro senza guanto lì dove te l'ho messa dentro c'è la guanto adesso non è che mi ha incinta eh 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 io riniego eh però ora è tutto ora mia bicicletta che cazzo che cazzo di qua scusi è per la cicchignola ah scusi no c'è la gara no chieda a lui che lo sa la strada per la cicchignola scusi eh che sborrone oh il solito ahaha Grazie a tutti.